Tebaldi il tempo è quello che avete ordinato insomma per allenarvi giustamente sui campi qui della Ghirala vi aspetta questa questa trasferta contro l'Einster che conoscete certo si dice sempre che si gioca come ci si è allenati no quindi le condizioni in Irlanda sono queste abbiamo chiesto pioggia anche qua e pioggia è stata scherze parte ovviamente l'Einster ormai sono tanti anni che la troviamo in campionato anche altre volte in coppa sappiamo che è la prima della classe e quindi non possiamo lasciare nulla al caso come al solito cerchiamo di tenere le cose positive della porta precedente quindi di Scarlett soprattutto quello che abbiamo fatto al primo tempo e cerchiamo di migliorare quello che ovviamente è andato meno bene soprattutto nel secondo insomma siamo una squadra che ha già dato prova anche negli altri anni di fare tanto turnover e di cercare di coinvolgere sempre giocatori più freschi e penso che non sia cambiata comunque come mentalità quest'anno quindi indipendentemente da nazionali o non nazionali chi sta meglio che è più in forma che è più fresco il weekend gioca. Siamo dopo gli ultimi due o tre stagioni siamo molto consapevoli di potersela giocare con tutti soprattutto in campionato la Champions non la giochiamo da un anno quindi non siamo sciocchi sappiamo che è un livello più alto di quello della Coppa dell'anno scorso e quindi dovremmo farci trovare pronto per questo ogni squadra ovviamente anche siccome già detto l'Ester lo conosciamo il Leicester in Champions è una cosa diversa dall'Ester in campionato questo penso di non dire una cosa nuova quindi dovremmo farci trovare pronti. Tebaldi dopo i mondiali fisicamente a posto adesso ci siamo? Sì ho voglia di giocare è stata una preparazione lunghissima dove alla fine con il turnover personalmente non ho giocato tantissime partite per quello che è stato invece il periodo di preparazione e quindi ho voglia di giocare che sia dal primo minuto che sia dalla panchina non fa differenza e solo voglio di essere coinvolto con questo gruppo.